Buongiorno, io sono Concetta Senese, dirigente scolastico del liceo scientifico e linguistico di Ceccano. Noi siamo una scuola altamente portata verso la tecnologia e l'innovazione didattica. Oggi siamo qui a Coding Girl e ho accompagnato delle mie studentesse per poter partecipare a questo evento che vede il nostro studente protagonista del mondo digitale. Siamo molto soddisfatte perché non solo abbiamo studentesse ma anche studenti che dietro l'input della nostra scuola riescono a proporre dei progetti molto innovativi e che sono spesso stati riconosciuti con delle premi per quanto riguarda proprio questo setore specifico. Cosa facciamo di particolarmente importante? Oltre alla didattica particolare insegnata con nuove tecnologie, noi applichiamo la metodologia Biod, porta a scuola il tuo device e diamo la connessione in rete ai ragazzi e i professori dopo una formazione fatta sempre all'inizio dell'anno a settembre sempre di livello più alto, lo applicano nella didattica curriculare ma affianchiamo alla nostra attività anche quelle parallele, quelle che praticamente facciamo partecipare a Lazio Innova, Fondazione Mondo Digitale, dove i ragazzi hanno delle opportunità in più e possono formarsi seguendo quelle che sono le loro attitudini ma che la scuola li potenzia, li mette in gioco e hanno costruito appunto nella nostra scuola anche un gruppo di ragazzi che aiutano i docenti Teacher Aids e comunque aiutano gli altri studenti a mettersi in gioco in questo contesto. Quindi in questo percorso di formazione che abbiamo fatto in questi anni devo dire che sono molto soddisfatta perché stiamo ottenendo dei risultati molto validi e questo però è possibile in una scuola se c'è un team, una squadra di docenti che affiangono la dirigenza e che andiano tutti lo stesso percorso e la stessa visione dove voler portare la scuola sempre al passo con i tempi.